Sono quasi 3 milioni e mezzo finora le dosi di vaccino anti-covid somministrate in Sicilia. Tra chi ha già superato gli 80 anni, nell'isola il 24% non ha ricevuto nemmeno una dose, percentuale che aumenta al decrescere dell'età. Nella fascia 70-79 sale al 27%, mentre nella fascia 60-69 addirittura al 36%. E' proprio a questa platea, oltre alle persone con fragilità di qualsiasi età, che si rivolgono gli open day iniziati ieri in Sicilia. Fino a domani, martedì 22 giugno, chi ha compiuto 60 anni potrà presentarsi, senza prenotazione, in tutti i punti vaccinali dell'isola per ricevere la prima dose di uno dei due vaccini ad RNA messaggero, Pfizer e Moderna. Ma non è l'unica iniziativa volta ad accelerare ulteriormente la campagna di immunizzazione nell'isola. Sabato, l'autoemoteca per la campagna di vaccinazione a chilometro zero ha fatto tappa dal Caralifusi. Nel piccolo comune dei Nebrodi, l'iniziativa è stata spinta anche dalla Coldiretti Messina, che per l'occasione ha voluto donare una bottiglietta d'olio extravergine realizzato con le olive locali a tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino. A queste si aggiunge l'iniziativa promossa dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, per impiegare l'esercito allo scopo di raggiungere i cittadini più anziani e fragili, non ancora vaccinati ovunque si trovino, anche nelle aree più isolate. Anche in questo caso l'obiettivo sono i cittadini over 60. Nei paesi più difficilmente raggiungibili e dotati di presidi sanitari insufficienti, sono stati costituiti i primi presidi vaccinali mobili che stanno raggiungendo una fascia di popolazione che molto difficilmente avrebbe avuto l'opportunità di vaccinarsi a fronte di spostamenti spesso difficoltosi dal proprio domicilio.